Ciao ragazzi, lo vedo oggi signore Marco Araro Campini. Perché Marco Araro? Perché questa è una cosa molto bella, però mi ha scritto una cosa buonissima che io faccio il video per voi e dico questa cosa, no? Perché Marco Araro perché voleva parlare con me, non lo so, è una cosa stupida questa cosa, però Marco Araro perché voleva parlare con me, mi sa? Perché ero primo fan nero, non lo sono xenofobi, per parlare, non lo so, perché per parlare con lui io neanche gli ho scritto ancora, perché non voglio scrivere un libro che è famoso, poi ce l'ha con me, poi ce l'ha per me e ce l'ha per me. Io forse farò una live in privato e parlerò con lui, perché ragazzi, non ci siamo più a per culo, perché lui non può, non può fare uno scemo che dice ah ah ah, qua ho le ferite, questa cosa non è normale, questa cosa non è normale, poi ha arrestato, lo sapete perché ha arrestato a Gampio? Questa è la cosa più blu del mondo, è più blu del mondo, guarda, che non puoi Marco, Marco fa i video, perché con gli occhi la polizia che abbiamo a casa sua, e poi dopo ti lascio solo in descrizione i video di Schiappini con la polizia. Quella è la cosa più blu del mondo, che io non voglio fare, perché i video mi sono belli, sono carini, non faccio i video che sono arrabbiato, sono bello buio, perché non era, no, perché è la cosa più blu del mondo, questa cosa. Perché se uno fai un video che dice le valace con i fan, i fan gli dico vaffanculo allora, che dicono, perché questa è la cosa più blu del mondo, cioè, è una cosa incredibile, è una cosa chifosissima, cioè è super, è supportabile, perché uno poi, a grandi fan, a chiedere quattro anni hai, quattro video fai, Non puoi giro, non puoi giro perché poi, poi al di là, se tu fai i video, i video sono belli, no? E i video sono belli e sono blu e io sono bravo a fare i video, cioè a fare i video un anno, sono bravo. Però a fare i video con loro, vabbè con loro sono più forti a fare. E però, allora stavo dicendo, questa cosa, per fare i video, vabbè, la sapere, è molto blu perché uno può fare i video e dice che è per lì a fare un video, che è per lì a fare quello, che è per lì a fare l'altro. E niente, questo è un video per lui e per tutta la famiglia sua, perché questa cosa è molto più blu del mondo. Questo è la sua del privato, e capimi, se guardi il suo video, io saprò, eh, ciao capimi. Grazie. Grazie. Grazie.